Aveva allestito una vera e propria serra artigianale per produrre in proprio della cannabis indica. A finire nei guai è stato un giovane ventenne, già noto alle forze dell'ordine, residente a Lucrezia e da poco trasferito a Fano. Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono iniziate dopo aver sorpreso alcuni ragazzi con dosi di marijuana che avevano fatto trappelare dell'esistenza in zona Fano di un ragazzo che aveva allestito in casa una serra e un impianto di essiccazione di marijuana. Poi dai servizi di appostamento e dagli accertamenti svolti i sospetti sono ricaduti proprio sul ventenne. Così all'alba i militari di Saltara insieme ai colleghi di Fano hanno deciso di fare eruzione. I carabinieri hanno rinvenuto alcune piante di cannabis già tagliate, apparecchiature, lampade a raggio ultravioletti a led, ventilatori utili a illuminare, riscaldare e successivamente a essiccare le piante. Inoltre, sopra un mobiletto della camera da letto, sono stati trovati 45 grammi di marijuana pronta per essere venduta. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice lo ha condannato a sei mesi di reclusione e 1.200 euro di molta. La pena è stata sospesa e il ragazzo rimesso in libertà. La pena è stata sospesa e il ragazzo rimesso in libertà.